Sì, siamo con il presidente, con il mister, scusa, il mister Leone, mister, riguardando l'occasione di Catania, oggi lo vorrei chiedergli, sono tre punti persi o è un punto guadagnato? Non si tratta di punti persi o un punto guadagnato, a noi si tratta della bella prestazione dei ragazzi che hanno fatto, è normale questo punto, fa sicuramente morale, avevamo bisogno di prendere punti, è stato un peccato perché abbiamo avuto l'occasione con Catania, purtroppo, ha sbagliato il gol, però ci sta nel calcio, ci sta che un calciatore sbaglia pure il gol, voglio dire. Quanto vi penalizza l'assenza di Russo in questa partita? Ma non solo l'assenza di Russo, l'assenza di Scuteri, l'assenza di Mitti che l'ho fatto giocare l'ultimo quarto d'ora, l'assenza di Russo, appunto, come dici tu, c'era qualcun altro che non stava molto bene in campo, tipo ancora non è al 100% l'orecchio, anche se ha fatto oggi una grande partita, davvero capitano quello che stava in campo, quindi sono contento, ma sono contento soprattutto per i ragazzi che, non so se avete notato, c'erano 6 under in campo, noi avevamo 6 under in campo, purtroppo, quando manca gente, gente importante, poi fai una prestazione pure del genere, una buona prestazione, questo ti dà coraggio, deve dare fiducia alla squadra e deve dare un po' autostima ai nostri giocatori. Quattro punti ottenuti con quattro pareggi, forse possiamo dire che l'Isola Caporizzuta è malata di pari gite, tra virgolette, cosa manca forse a questa squadra, prima di passare alle linee poi al collega Toscano? Guarda, io non voglio, ti ho già detto che io dall'inizio stiamo giocando con 5, 6 under ogni partita, finiamo sicuramente la partita con 6 under, anche se iniziamo con 5 under, questo non vuol dire che i nostri under non sono buoni, anzi, stanno facendo tanto, ma tanto bene, però in questo campionato è un campionato difficile, ci vuole un po' di esperienza anche, e quindi l'assenza di russo, di scuteri, di mitica, di l'orecchio quando è mancato, si è fatta sentire. Mister in seconda, Carabetta, mister, che partita ha visto oggi e se ci sono dei rimpianti soprattutto per le ultime occasioni in cui il Siderno è riuscito a costruire qualcosa? Vabbè, rimpianti no, certamente qualsiasi allenatore, qualsiasi società vorrebbe risultato pieno, però c'è sempre un avversario, di tutto rispetto, vi so che ho prezzuto una buona squadra, non abbiamo tenuto bene il campo, giustamente abbiamo avuto qualche occasione in più, non l'abbiamo sfruttato, non siamo stati lucidi sotto porta, ma il calcio è questo, non lo scopro io, con il lavoro giornaliero, con l'impegno, con il sacrificio, secondo me è una squadra che, parlo della nostra, una squadra che con tanti ragazzi, con tanti giovani e con qualche ragazzo d'esperienza può fare bene. Crede che in questa squadra manca qualcosa davanti? Oggi un po' sterile Figliomeni, qualcosina ha fatto Santa Guida, poco anche Sor Giovanni Marco, manca forse qualcosa in attacco a questa squadra? Vabbè, dobbiamo dire che il campionato è quello che è, un campionato difficile, un campionato che è all'avanguardia, sì, avanti siamo un pochino incompleti, abbiamo avuto l'infortunio di Michele Di Piedi che era un attaccante d'esperienza, che purtroppo ha avuto un infortunio e ci manca tanto, l'esperienza purtroppo avanti conta tanto, anche se abbiamo sia Figliomeni che Bolo che stanno facendo bene, Figliomeni è grande, Bolo è un ragazzo, 99, ricordiamo che l'anno scorso sto ragazzo faceva la prima categoria, ha tanta voglia, non è un campionato facile, un po' di esperienza purtroppo avanti ci vuole perché in questo campionato ci sono difensori esperti e difensori di altre categorie. Grazie. Grazie. Grazie.